aiutaci a sostenere lì ho detto aiutaci a sostenere lì ecco qui che fa i cuovi l'abbiamo beccato ciao sono Alberto lo chef del BDG e sono qui oggi per dire il nostro no lo chef del BDG e sono anch'io qui oggi per dire no all'omotopia comprate il nostro gallinaio ok cercate anche di essere felici di fare questa cosa qui tutti belli sorridenti la prima fila sale sulla fontana il ricavato della vendita della nostra vendaria sarà devoluto ai bambini malati dei bambini riesci a fare tutte le cose che ti prende la mente? carcinare il bambino di qua bambino? bambino? Filippo? prendi vai a prendere aiutaci a sostenere ogni tipo di razza si vai a copa la start e lascio il ponte senza presa un abbraccio, un bacio e una carezza lungando la mano cartovina che facci? profondisci il bambino che tolto e l'obbaccio non ci devono dire